E' stato perpetrato un raid vandalico l'altra notte all'interno dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. I gnoti malviventi, dopo aver disperso sul pavimento la polvere contenuta negli estintori antincendio, hanno danneggiato le porte di uno dei tre ascensori. Il tutto è stato scoperto nella mattinata di ieri, quando il personale ospedaliero ha informato la direzione sanitaria e i carabinieri del luogo. I militari sono subito intervenuti sul posto, effettuando i rilevi del caso. Acquisite anche le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza dell'ospedale Licatese.